Di Mercogliano, della Gala, Manco, Marseglia, che storia? Prima di mezzanotte. Cantano Salvatore Minieri e Luigi Abate. Di mezzanotte si muovono i tavoli e testa sfracciata. Che lo cano fascista col ciglio fascista da lingua. Chiuso a parentesi, ma è che stanno parlando, altrimenti non spiego che buono sto ciglio che fa. Si viro che il giardetto che impazzisce, sembra che ne va riella d'intagoscia, mantieno mica sella, ma che sta succedendo? Trappurato il sciopo del mar. Ma sti diavolo ti so, dalle ricerche a ralti che ce trovo il sangue blu. Chi lo sa da con il gamba ce serve a vencere giù. Si parla ancora, ragazze documenti. Senza renderti conto che tu hai già scaduto e sei pure un gialluto. Ti consiglio di non farlo valido più per l'espazio Ma che serve, perciò è stata a casa Nata volta ti spiego per bene stucce che fai Si viro cagliardetta che impazzisce Se vogliono i barri e merindagasce Ma che sta succedendo, che vorrà non ci farà Ma stia a me la chisò Da l'edicerca e araldi che trova sangue in blu Si lo sanno che con l'anna ci serve, perciò è stata a casa Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!